Noi in percentuale sul PIL spendiamo il 27% per il welfare pubblico, anche se effettivamente più la metà di questa spesa va in spesa pensionistica, siamo un paese evidentemente che invecchia e invecchiando dobbiamo sostenere il nostro sistema pensionistico, venendo un po' meno al patto generazionale. Infatti che cosa sta succedendo nel paese? Abbiamo affrontato un periodo di pandemia, è crollato il PIL, è risalito, adesso le previsioni sono di un rialzo del PIL e di una crescita a fine anno, però di contro abbiamo assistito agli scenari di guerra, la guerra ha impattato sul potere di spesa delle famiglie, anche perché c'è un rinnalzamento dell'infrazione e un caro energia. Ed è evidente che il welfare, i sistemi di welfare sono al centro per non lasciare indietro nessuno, al centro della ripresa di questo paese, ma anche al centro del PNRR. È ovvio che le aziende hanno investito tanto in welfare privato perché un po' si sono arrangiate per i motivi che dicevamo un minuto fa, cioè il welfare pubblico non è sufficiente e quindi le imprese italiane, anche se il tessuto imprenditoriale italiano è un tessuto di media e piccola impresa, le grandi imprese hanno investito molto e hanno investito perché si rendono conto che devono trattenere, attirare i nuovi talenti e anche perché per la crescita, per il futuro, bisogna che le donne e i giovani entrino nel mercato del lavoro. Noi sappiamo che solo il 51,9% delle donne in Italia lavora, e questo è un dato drammatico, e che c'è un abbandono della scuola pesantissimo in Italia da parte dei giovani e la disoccupazione giovanile dopo il Covid è molto avventata. Prima del Covid erano in circa il 17%, dopo il Covid siamo al 21%. . Grazie a tutti.